Partiamo dai commenti che sono stati inseriti sul lavoro di Cristina e poi su quello di Nicola. Dunque, per esempio, si parla della curiosità, come potete vedere, che manifesta Cristina appunto nel suo scritto e si dice perché per esempio da un lato questo percorso verso il manicomio criminale nasconde diversi misteri e si allaccia alla passione che Cristina ha per Sherlock Holmes. Quindi in questo caso che cosa ha individuato la nostra lettrice? In questo caso la nostra lettrice ha individuato degli elementi che, come dire, sono esterni al racconto di Cristina, perché il racconto di Cristina parte da ricordi personali, traccia un percorso attraverso questi ricordi che poi la porta a esprimere la sua passione. Noi diciamo che questo tipo di commento, cioè il dire che il racconto è interessante per quello che poi succede all'interno di Gotham City, cioè per un elemento esterno al racconto stesso, questa si chiama come tipo di analisi un'analisi extradiegetica, cioè esterna alla storia stessa. Infatti noi consideriamo il nucleo della storia di Cristina appunto come quel racconto che si riferisce anche al suo stesso passato, la nonna, eccetera. Siccome il racconto è inserito all'interno di un altro racconto, che è un racconto più generale, che è quello che deve essere ancora costruito in fin dei conti e che è rappresentato dall'ambiente di Gotham City, ecco che abbiamo un racconto all'interno appunto di un racconto e l'apprezzamento che questa o questo lettore o questa lettrice esprimono nei confronti di Cristina si riferisce proprio a questo elemento esterno, cioè al legame tra un racconto e l'altro, e l'altro che naturalmente è in corso. Quindi abbiamo un apprezzamento di tipo extradiegetico. Allora, questo lo dico perché è sbagliato, lo dico perché è giusto? No, lo dico perché voi sappiate come stanno le cose quando si racconta. Nel momento in cui si intraprende uno storytelling, e questo può essere per scopi divulgativi, puramente letterari, quello che volete voi, dobbiamo sempre tenere conto di due fattori. Quello che c'è all'interno della storia stessa è il legame che la storia può avere con il mondo circostante, quindi con me, con te, con voi, con l'ambiente di Gotham. Nel caso in cui il legame, esista un legame interno, cioè noi parliamo dei legami interni, ecco che questi sono intra, cioè sono dentro il racconto, quindi sono intradiegetici. Quando questi legami sono esterni, abbiamo invece dei legami di tipo extradiegetico. Se all'interno di un racconto noi abbiamo entrambi questi legami, la cosa si fa particolarmente interessante. E infatti che cosa, perché si fa interessante? Beh, perché l'attenzione del lettore è spostata continuamente su due assi. Uno che è appunto il meccanismo della storia stessa e l'altro invece il legame della storia con l'ambiente circostante. E questo doppio aspetto nel racconto di Cristina, che poi vedremo che è anche presente nel racconto di Nicola, non solo tengono sull'attenzione, ma consentono a chi poi ha sviluppato i vari commenti di riprenderlo. E vedrete che questo aspetto è ripreso diverse volte. Ma vediamo un po' cosa dice, cosa dicono altri commenti. Sapersi raccontare. Quindi dice che Cristina è capace di sapersi raccontare. Si parla di innocenza, di quotidianità, per poi terminare con una sorta di colpo di scena. Ecco, l'immagine dell'innocenza è molto interessante, perché se voi ricordate il racconto c'è questa proprio immagine, sensazione un po' ingenua e questo quadro innocente, quasi primordiale, che viene rappresentato. Poi qui si mette l'accento per esempio sulla lente di ingrandimento, di Sherlock Holmes, che di nuovo stabilisce un legame tra la struttura della storia e l'ambiente circostante, perché la lente è strumento di indagine sia per il contesto di Cristina, ma sia anche per l'ambiente di Gotham e quindi l'indagine, la scoperta anche stessa di questo nuovo ambiente. Quindi questo legame è molto importante e significativo. Qui di nuovo ci sono riferimenti a Sherlock Holmes, all'esperienza personale. Si dice che questo modo di narrare rende la storia meno estranea e distante, perché? Perché c'è un contatto con l'esperienza personale. Si parla del fatto che Cristina ci fa entrare nel suo mondo, la nonna, i pulcini, cioè la nominazione di elementi concreti che rimandano a quell'aspetto, vi ricordate, ne abbiamo parlato prima, di innocenza che viene trasmessa proprio attraverso questi elementi, questi dettagli particolari. Poi di nuovo un richiamo al metodo scientifico e quindi al legame tra la struttura della storia e il suo rapporto con l'ambiente. Poi di nuovo si sottolineano le passioni che Cristina ha raccontato, il fatto di poter essere proiettati in questo paesino. Qui c'è anche un'osservazione che ha un valore generale, che è anch'essa molto utile, cioè le nostre passioni molto spesso vengono innescate da qualcuno e lì è chiaro appunto il legame tra la nonna e l'innesto di queste passioni. E poi c'è anche una considerazione che può essere utile, cioè se siamo in grado di proiettare queste passioni anche nel nostro lavoro è chiaro che funziona tutto meglio. Poi il potere di questo racconto di trasmettere valori ed emozioni. Poi di nuovo si insiste sulle passioni, sull'indagine. il fatto che il modo con cui Cristina racconta ci aiuta a immaginare le sue descrizioni che sono anche realistiche, perché si rilacciano ovviamente alle esperienze personali. Poi c'è sempre un richiamo continuo al dettaglio. Questo c'è sia nel racconto di Cristina che nei commenti al racconto di Nicola. Si parla spesso anche di immagini semplici, ma che sono evocative. Quindi, come dire, non è necessario scrivere o raccontare in modo complesso, ma la semplicità spesso può aiutarci a evocare. Poi la capacità di unire la tradizione e l'innovazione. Questo lo vedremo poi anche nel racconto di Nicola. Poi si parla del fatto che, del viaggio, della sua capacità di viaggiare, viaggiare con la mente, e viaggiare con la mente significa che poi anche il lettore accompagna l'autrice in questo viaggio mentale. Poi di nuovo riferimenti al metodo scientifico, di nuovo riferimenti al legame che questo racconto ha con l'ambiente di Gotham e al valore di personaggi come i nonni. Il genere autobiografico, sì, genere autobiografico, diciamo fino a un certo punto, perché l'elemento autobiografico in realtà poi serve per documentare un percorso, però sì, certamente, fortemente autobiografico. Il fatto che sia autobiografico genera ovviamente un rapporto affettivo che giustamente viene messo in luce qui, senza trascurare ovviamente la memoria di tipo storico. e quindi ne fa un piccolo racconto che non si limita solo a un rapporto, cioè a descrivere appunto un'esperienza, ma la storicizza con gli elementi di cui abbiamo parlato prima e sulla base di un tessuto affettivo molto chiaro ed efficace. La capacità di raccontare di sé e poi, direi, tutto questo mix, giustamente, questo è l'ultimo commento, ma è anche quello che per combinazione racchiude un po' tutto, certo abbiamo un mix. Qui abbiamo effettivamente un mix di tante cose che determinano poi l'equilibrio di quello che Cristina ci racconta. Vediamo i commenti invece al testo di Nicola. Anche qui voi vedrete che vi siete espressi più o meno tutti quanti sullo stesso terreno, un po' come avete fatto con Cristina. Quindi sono stati colti proprio oggettivamente degli elementi comuni e presenti in entrambi i racconti. Per esempio, il fatto che Nicola abbia voglia di imparare usando tutti i mezzi a sua disposizione è qualche cosa che è stato scritto da parte vostra un po' in tutti i commenti. Il modo con cui lui crea il diario di viaggio, tra l'altro, è anche un insegnamento. Quindi la lettura di questo racconto non provoca, diciamo, solo una comprensione di quello che Nicola compie, ma anche una funzione di insegnamento pedagogica, anche se molto probabilmente, poi glielo potremo chiedere, Nicola non aveva nessuna intenzione di insegnare niente a nessuno. Però nei fatti è stata trasmessa qualche cosa, qualcosa che ha a che fare con l'apprendimento. Poi di nuovo vivere l'immaginazione e un accenno molto importante sul finale, che è pura emozione, perché nel finale, voi ricordate, si scopre la disabilità di Nicola, che ha a che fare proprio con la sua passione, cioè il camminare, quindi qualche cosa che ostacola, crea un conflitto proprio con la sua grande passione, che è quella di camminare. Si parla del fatto che leggendo questo racconto si cammina, si cammina con lui, sembra quasi di camminare con lui. Interessante poi è questo commento perché dice che leggendo il racconto di Nicola e pensandoci, appunto è sembrato quasi di camminare con lui e lungo la mia strada ho trovato un acculio districe. Cioè questo commento, a causa di questo inserimento, diventa quasi un racconto aggiunto al racconto di Nicola. Questo ve lo segnate come post-it perché poi ne parleremo lunedì, quando affronteremo il tema della comunicazione da una parte contro la narrazione dall'altra, perché il racconto è circolare, la comunità che racconta è una comunità di parlanti che si mettono in circolo e quindi ognuno aggiunge un racconto. E questo è un bel esempio perché appunto è come se questa persona, che non so chi sia ma non ha importanza, non ci sono i nomi qui di coloro che hanno inserito i loro commenti, è come se questa persona appunto prolungasse il racconto di Nicola con il proprio racconto, la propria esperienza. Certo, il percorso fisico è sempre quello d'A e B, ma con test e animo sempre diversi perché se vi ricordate nel testo di Nicola, lui intraprende un determinato percorso, ma ogni volta con un nuovo stato d'animo, una nuova esperienza e anche nuovi strumenti e atteggiamenti. Il punto di vista è fortemente soggettivo, esatto. Esatto, qua non si tratta di descrivere una procedura, ma di parlare del soggetto all'interno di quella procedura. Ma è descritta una procedura? Certo che vengono descritte delle procedure. Quando Cristina munge le mucche o quando Nicola usa determinati strumenti, indica in qualche modo delle procedure. Ma quello che conta non è la procedura, bensì il modo in cui il soggetto è all'interno della procedura stessa e quindi il racconto diventa fortemente soggettivo e quindi giustamente è stato rilevato così. Poi un po' di romanticismo, eccolo qua, racconti in maniera molto romantica, è vero, ma che cos'è il romanticismo? Che esiste anche, benché non sia stato rilevato, nel racconto di Cristina. Beh, il romanticismo è la poesia, quindi sono due testi, questi, che hanno a che fare con la poesia. Non sono due poesie, non hanno degli elementi poetici, cioè delle frasi, come dire, costruite in modo poetico, ma hanno a che fare con la poesia perché assumono un rapporto molto delicato con i sentimenti senza esprimerli direttamente. Quindi questi sentimenti esistono nello sfondo dei loro due testi. E però, ricordate, non ci sono dei riferimenti espliciti. Anche qui, di nuovo, si parla della diversità dei percorsi e quindi della continua scoperta che mette in luce Nicola. E poi qui si dice, aggiunge, cari Bruce e Alfred, sono proprio curiosi di vedere cosa emergerà nel mini webinar di mercoledì. Su due testi uguali per tutti saranno sicuramente emersi tanti spunti differenti. E infatti vedete che già solo questa prima disamina mette in luce un sacco di considerazioni interessanti e corrette, direi proprio. Poi si parla del portare appunto gli strumenti che normalmente si userebbero solo in un ambito professionale, però ci aiuta a capire la meraviglia stessa di Nicola nei confronti del paesaggio di quello che fa e come questa meraviglia può essere sostenuta da strumenti appunto che possono, che sono di tipo professionale. Cosa significa questo? Beh, significa che per esempio un lettore che non conosce i termini tecnici, che non si occupa di ambiente, eccetera, non può non apprezzare il racconto di Nicola perché l'introduzione di elementi altamente professionali, strumenti, termini tecnici, eccetera, non è un ostacolo alla comprensione del racconto stesso perché come abbiamo detto prima, il punto di vista dove era stato scritto è fortemente soggettivo e quindi quello che conta è il rapporto che si genera tra Nicola e la sua passione, che poi questo rapporto implichi l'utilizzo di determinati strumenti e anche, se vogliamo, di un linguaggio ancora più tecnico di quello che Nicola ha utilizzato. Questo non ha importanza, ma fa comprendere ancora di più il valore di verità del racconto di Nicola stesso, quando però la verità non è negli strumenti, cioè non è nelle operazioni tecniche che Nicola compie. Poi, il cenno finale sulla disabilità rafforza quanto detto, certamente ne abbiamo già parlato di questo. Qui si parla del ritmo, importante il ritmo, il ritmo della storia. Il ritmo della storia nel testo di Nicola è dato dal camminare, la camminata ha un ritmo, la camminata in montagna ha un ritmo, ha un ritmo diverso per ciascun camminatore, ma non può essere una camminata ritmica, ovviamente come tutti voi ben sapete. Quindi il ritmo della storia ha a che fare con qualche cosa di molto concreto, che appartiene alla storia stessa, cioè al modo con cui Nicola affronta un determinato ambiente, cioè il camminare. Ci rendiamo partecipi dei suoi pensieri, di nuovo si sottolinea la novità dell'intraprendere il percorso da parte di Nicola, come se ogni volta fosse nuova, anche qui si rileva appunto che la meraviglia sono sempre diverse e si scopre sempre un dettaglio nuovo, anche se c'è una ripetitività nel percorso che compie Nicola. Infatti anche qui di nuovo si tocca a questo punto, cioè stesso luogo ogni volta per un luogo diverso. Questo è curioso perché dice alla redazione ma da chi è composto esattamente quali sono i suoi criteri? Ma intanto da chi è composto esattamente questo non lo sappiamo, e francamente vi devo dire che non sappiamo neanche se esista una redazione, tra l'altro. Quindi figuriamoci i criteri. Ma il problema però non è che voi dovete conoscere quali sono i criteri della redazione, perché questo era chiaramente un pretesto per parlare, per lasciare a voi lo spazio, a voi la parola sui racconti. E infatti poi giustamente cosa viene scritto qua? che l'immagine dell'acqua che non fa la stessa fatica è molto d'effetto, certo, perché questo è un confronto tra la fatica umana, in particolare di Nicola, e quella dell'acqua che è molto evocativa e quindi giustamente viene rilevata. E poi anche qui si parla della diversità che è presente all'interno dello stesso percorso. E si parla anche dello spiazzamento che è determinato dalla conclusione del racconto di Nicola. Perché? Perché in fondo una passione così forte per colui che cammina, per la camminata, il camminare non ti fa certo ritenere che la persona che scrive possa avere dei problemi proprio nel camminare. Quindi, giusto, una forma di spiazzamento. E poi va bene le metafore, certamente. Allora, questo così in breve è quello che voi avete scritto. Vediamo. Allora, il testo di Cristina da un punto di vista strutturale come si presenta? Beh, si presenta a suddiviso in quattro parti. La parte A. Ciao a tutti, mi chiamo Cristina, ho 21 anni, sono una studentessa universitaria. È bello questo incipit perché, va bene, siamo all'interno di un forum di benvenuto, quindi è logico che ci si presenti. È logico, ma non è così scontato e comunque da un punto di vista narrativo diciamo si entra subito nella conoscenza del personaggio che appunto Cristina e con la sua giovane età mette subito in luce qualche cosa che ci fa pensare a un certo approccio, un certo entusiasmo, una certa innocenza anche se vogliamo. E poi dice fin da piccolo ho avuto modo di passare molto tempo in mezzo alla natura, tosco emiliano, eccetera. Quindi abbiamo questa parte, vedete, che così è una sorta di presentazione. Poi inizia subito con uno stacco che parla del paesino in quel paesino in mezzo alle montagne. Allora, quel paesino significa che noi tutti lo conosciamo questo paesino. Se senza questo quel, oppure nominando il paese scrivendo mi trovo a XY in Toscana o nell'Appennino, eccetera, nominando proprio il luogo con precisione, noi non otterremmo lo stesso effetto che è stato da voi sottolineato, lo stesso effetto generale del racconto. Perché? Ma perché quel e quel significa che l'esperienza che lei sta raccontando in realtà è la vostra esperienza, è l'esperienza di tutti. Quel paesino è il paese che tutti conoscete, attraverso il quale tutti siete passati, che avete visto, che avete di più, che avete qui nel cuore. E perché l'avete nel cuore? Perché lei ha 21 anni. Lei ha 21 anni, è giovane, esprime i suoi sentimenti e questi sentimenti sono concentrati in questo paesino che è il vostro paese. E quindi lo stacco tra queste due parti appunto del suo testo, che ripeto, saranno stati, sicuramente sono stati involontari, poi Cristina è presente e ci potrà dire qualche cosa in merito, cioè non sono testi strutturati, sono testi spontanei. Però c'è una spontaneità del racconto che emerge proprio come anche capacità di raccontare. Ed entra subito, vedete, ho avuto modo di svolgere molte attività. Due punti, mungere vacche, allevare pulcini. Allevare pulcini. Allora, allevare pulcini. E ho 21 anni. E il paesino è quello che voi conoscete. Chi è Cristina? Ma Cristina è vostra figlia. Cristina è vostra sorella. Cristina è qualcuno che voi conoscete molto bene. Cristina non è un personaggio che entra a Gotham City e si presenta con la carta d'identità. Ma è un personaggio che voi conoscete. È un personaggio familiare. E che storia racconta? Racconta la storia di tutti i giorni. Mungere vacche, allevare pulcini, assistere all'estrazione del miele, dell'apicoltore locale, coltivare, raccogliere funghi, eccetera. Cioè, tutte le cose che voi fate. E attenzione a quello che dico. Perché se anche tra di voi c'è qualcuno che queste cose non le ha mai fatte, in realtà, la sensazione che riceve dalla lettura di questo brano è esattamente il fatto di essere insieme a Cristina ad aver fatto con lei queste cose. Perché le avete viste, perché le avete viste nei film, le avete lette, le avete sentite parlare, in qualche modo fanno parte della vostra esperienza e Cristina ve le cristallizza e vi dice sì, sono arrivata, sono io, sono vostra figlia, sono vostra sorella, abbiamo munto le vacche insieme, siamo andati a prendere il miele, l'abbiamo fatto insieme. e poi mia nonna è riuscita a trasmettermi la sua passione per l'ambiente e gli animali. Mia nonna. Ma chi è questa nonna? Ma è la vostra nonna. È la nonna di tutti. È la nonna che tutti abbiamo avuto e che qualcosa ci ha trasmesso. Ripeto, non avete avuto una nonna che viveva nella montagna tosco-emiliana o in campagna o... Ok, avete avuto la nonna in New York nel più grande loft di Manhattan, perfetto. Ma è quella nonna lì. È la nonna del mungere le vacche e del prendere il miele. È questo il legame che si determina. Non è un legame reale, è un legame immaginario, è un legame metaforico. Quindi è un insieme diciamo molto vasto, molto aleatorio anche, ma è precisamente l'insieme nel quale Cristina raccoglie tutti. Raccoglie tutti gli abitanti di Gotham, tutti voi. Ci raccoglie tutti dentro questo ricordo. E quella che secondo me è una bomba, ma proprio una bomba nel vero senso del termine, è questo. Questa parte che è la parte C. E cioè, ed è proprio nel suo orto, quindi è proprio nel suo orto, che è nata in me la voglia di proteggere. Ed è nel suo orto che è nato un valore. un valore che non è, lei non dice mia nonna mi ha trasmesso il valore di proteggere la natura. Non è così, perché se l'avesse scritto così sarebbe stato un testo come tanti altri. Lo avreste potuto leggere all'interno di un giornale, di una rivista, di un documentario del National Geographic, quello che volete voi. Ma non è così. Lei dice che in quell'orto, cioè nell'orto di vostra nonna, del vostro paesino di campagna, dove eravate tutti lì, fratelli e sorelle, con Cristina, lì è nata la voglia di fare che cosa? Fermi tutti e ascoltate. È nata la voglia di amare l'ambiente? No. Se lei avesse scritto è nata la voglia di amare l'ambiente, noi non saremmo più andati avanti a leggere. Cioè, avremmo letto perché è Cristina che si presenta, benvenuta Cristina, ciao, ok. Ma dire se avesse detto è nata la voglia di amare l'ambiente, questo amare l'ambiente sarebbe stato ridondante ed esplicativo di qualche cosa che c'è già stato detto. Perché quando uno alleva pulcini, assiste all'estrazione del miele, coltiva, raccoglie funghi, è uno che ama l'ambiente. ma non lo dice l'amore per il suo oggetto nasce dal rapporto con l'oggetto, non dalla proclamazione dell'amore. Lei non dice io amo allevare i pulcini, adoro i pulcini, mio Dio, i pulcini, non dice questo. Lei dice quello che fa con gli oggetti e le cose e gli animali che ha intorno. ma quello che fa è esattamente fatto perché c'è un tessuto affettivo e quindi è ovvio che ci sia un legame tra lei e l'ambiente e per questo non è stato scritto che è l'amore per l'ambiente ma si fa un salto è proprio un salto che si fa. si fa un salto perché quello che nasce nell'orto nell'orto è il proteggere tutto quello che mi circondava. Vedete che c'è un salto perché tu sei nell'orto e che cosa fai nell'orto? Fai determinate operazioni che te lo fanno accudire che te lo fanno amare e quindi nasce questo istinto di protezione. Ma questo passaggio logico in mezzo non c'è è saltato. Perché è saltato? Ma perché è scritto prima? Ma non è scritto in modo esplicito è scritto in modo tale che però che tutti voi lo capite quindi che cosa nasce? Nasce la voglia di proteggere cioè lei da colei che è stata allevata dalla natura da una nonna che è la nonna della natura quasi una druda che ha il suo rapporto diretto con la natura lei diventa quella che la natura la protegge. cioè è un salto è una crescita lei non ha più 21 anni o forse ha ancora 21 anni diciamo così ma questi 21 anni hanno tutto un loro significato che è diverso dal significato di partenza rileggete questo testo alla prima riga 21 anni e pensate arrivati a questo punto che Cristina abbia 21 anni certo che ha sempre 21 anni ma non sono gli stessi 21 anni ho inoltre una fine fine ma non va a capo continua ho inoltre una grande passione per la scienza letteratura e i libri Sherlock Holmes in particolar modo il suo spirito di osservazione eccetera eccetera che cosa ci dice ci dice che l'affetto l'affettività la tradizione il vivere nel paesino che è il paesino di tutti noi con la nostra nonna la nostra nonna comune con la natura il diventare la sua protettrice necessita degli strumenti scientifici perché che cos'è Sherlock Holmes è questo è come qualcuno diceva la lente è la scienza che entra in questo rapporto tra Cristina e la natura ma la scienza entra dopo che si è determinato l'affect l'affetto e qui c'è la regola d'oro che si è determinato ma proprio la regola d'oro proprio da scrivere a caratteri cubitali da stamparsela qua proprio nel cervello che non esiste nessuna possibilità di raccontare niente se non c'è un'espressione affettiva primo punto numero due che l'espressione affettiva per essere colta davvero come espressione affettiva non deve essere mai e ricordatevi questo mai mai m a i dichiarata non bisogna mai dire io amo la natura tu mi devi far vedere che cosa fai affinché questa affermazione io la possa cogliere senza che tu me lo dica perché l'uomo non si giudica da quello che lui dice di se stesso ma si giudica da quello che fa e noi non prenderemo mai in considerazione un soggetto che parla di sé dicendo quello che è capace di fare ma noi prendiamo in considerazione un soggetto che fa e sulla base di quello che fa siccome noi non siamo stupidi siccome nessun lettore nessuno spettatore è uno stupido sarà in grado di decodificare e di capire il legame tra quello che fa il suo affetto e quindi trasmettercelo ed è esattamente quello che viene fuori dal racconto di Cristina che ripeto adesso lei dirà che sono matto ad aver visto tutte queste cose lì dentro ma è il mio mestiere quindi si mette al cuore in pace e invece le dico una cosa a Cristina che ha delle eccezionali doti di narratrice che dovrebbe coltivare dovrebbe coltivare anche in modo scientifico un po' lo faremo qua chiaramente non è nostra pretesa trasformarvi tutti in grandi registi documentari divulgatori eccetera però farvi ragionare su questi aspetti sì e poi vedrete voi che cosa ricavare dei vostri ragionamenti e sul testo di Nicola brevemente perché siamo in scadenza poi volevo sentire così qualche vostro commento e Cristina poi chiudiamo guardate il testo di Nicola io vi dico subito che abbiamo individuato diverse diversi elementi benissimo diversi elementi perfetto ma ci sono ci sono due come chiamarle due strutture che si incontrano che sembrano diverse ma sono identiche e si incontrano all'inizio e alla fine camminare è un viaggio che inizia quando si è bambini cioè cosa dice Nicola non è che non dice io amo camminare in montagna perché questo di cosa ci sta dicendo parliamoci chiaro Nicola ci parla della cosa più banale che si possa fare quando uno ne ha la possibilità quindi di camminare in montagna di questo ci parla ci parla di camminare in montagna non ci parla di prendere un'astronave andare su Giove e scoprire chissà che cosa andare nel centro della Terra 20.000 leghe sottimare o chissà o Tom Cruise che salva il mondo di fronte a una catastrofe no 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 ci dice che lui cammina punto la cosa che fanno tutti non tutti camminano in montagna ma tutti quelli che hanno che possono che hanno la montagna vicino ci possono andare lo fanno ma non dice che lui piace camminare in montagna lui dice un'altra cosa lui dice che camminare camminare lo fanno i bambini camminare lo fanno i bambini quindi di cosa stiamo parlando di niente niente cioè la cosa più banale che un uomo possa fare ma non è così banale perché cosa dice Nicola che camminare è un viaggio e i bambini non viaggiano se non accompagnati dunque camminare un viaggio che inizia quando si è bambini è fantastico a me non piace usare termini tipo incipit perché sanno troppo di struttura letteraria e non mi piace l'analisi lettere non stiamo facendo un'analisi letteraria stiamo facendo storytelling che è un'altra cosa però effettivamente questo è un incipit quindi chiamiamolo pure incipit è un incipit straordinario questo camminare un viaggio che inizia quando si è bambino non puoi non andare avanti a leggere perché non è la storia di Nicola cioè si è la storia di Nicola ma come per Cristina è la mia è la tua è la sua è la storia di tutti qui non c'è una nonna c'è un bambino che fa un viaggio e poi come finisce? finisce così dice sono un disabile ho problemi di cammino e questa è la soluzione che lui ha trovato la soluzione sta nello strumento la fotografia nel modo con cui eccetera eccetera lo sapete ho trovato questo nuovo reggio che combino le mie passioni mi ha consentito di continuare a fare cose questa parte qua che io sottolineo qui non è espressa benissimo se Nicola lavorasse con me io gliela farei riscrivere questa parte se dovessimo fare un film io e lui questa parte della sceneggiatura la cambierei ma nella forma non nella sostanza perché la sostanza che cosa ci dice la sostanza ci riporta esattamente all'incipit cioè qua la cambierei perché non è della stessa forza dell'incipit no scusate adesso sono finito quindi la cambierei perché non è della stessa forza dell'incipit camminare un viaggio che inizia da quando si è bambini perché tergiversa un po' qua per esempio fare cose non significa camminare ma lui ci vuole dire che oltre a camminare fa altro va bene si è un po' perso qua d'accordo nella 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 conclusione ma la struttura è identica è identica e ci riporta a questa crescita che è intrinseca nell'incipit cioè sei bambino ma perché sei bambino ma sei bambino perché qua sei bambino qui è un bambino è un bambino che guarda che fa che si entusiasma che fa sempre la stessa cosa e la rinnova la rinnova continuamente non perché cambia come dire cambia l'itinerario ma perché cambia il modo cambia l'atteggiamento quello che voi avete scritto non sto a ripetere è giustissimo è perfetto io sto solo cercando di dare una struttura di inquadrare in modo logico attraverso delle categorie precise quello che voi da un punto di vista intuitivo avete giustamente scritto e osservato in questi due racconti e sono i motivi per i quali li abbiamo scelti ed eccolo qua quindi in questo viaggio il bambino cresce ma cresce anche Cristina si cresce allora noi ci dobbiamo dire questo interrompo la condivisione parlo con voi cinque minuti poi chiudiamo la trasmissione si cresce perché si cresce? perché non c'è storia senza una crescita questo ve l'hanno insegnato penso fin da elementari il protagonista non vi hanno insegnato tutti i meccanismi il protagonista entra in una storia poi esce che è diverso bla 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 eccetera eccetera sì sono le banalità che vengono insegnate ma sapete un conto è insegnarle e dire bla 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 e un altro conto è applicarle ora né Nicola né Cristina le hanno applicate ma le hanno espresse che è diverso hanno avuto questa capacità di esprimerle e perché c'è questa capacità di esprimerle? perché noi abbiamo delle una sensibilità e questo c'erano tutti chiunque qua o sotto il naso oggi ha questa sensibilità nessuno ne è privo qual è il problema? il problema è che a volte non la riconosciamo e se non sappiamo agganciarci a questa sensibilità noi non sappiamo raccontare non sappiamo insegnare sappiamo lavorare lo sappiamo fare in un modo istituzionale ma non sappiamo uscire da questo modo istituzionale ecco perché queste due perle di Gotham proprio due perle di Gotham sono una fonte di ispirazione per tutti e perché abbiamo convocato questo mini webinar per sottolinearlo e se qualcuno si chiede come funziona l'apprendimento a Gotham beh l'apprendimento è questo anziché fare una lezione su come si scrive un testo divulgativo eccetera eccetera dobbiamo arrivarci chiaramente perché ancora qui nei testi di Cristina e Nicola diciamo non c'è una vera e propria divulgazione d'accordo? con calma ci arriviamo anziché fare questo e tenervi incollati a 30 slide che vi spiegano le strutture noi facciamo un'altra cosa noi viviamo a Gotham si vive si tirano fuori le emozioni i sentimenti si discute si litiga perché no magari ci sono punti di vista diversi si vive e da questa vita noi traiamo gli elementi che saranno la fonte di ispirazione per le nostre sfide che sarebbero i compiti e i lavori che però noi non chiamiamo compiti e lavori perché sono sfide e perché sono sfide? ma perché un compito è una cazzata io ti dico fai questo e lo fai ma la sfida è qualche cosa che ha a che fare con se stessi che ti mette in gioco e non è solo un compito stop fine dove è Cristina? perché Nicola non c'è non poteva venire qua sono io ah ciao Cristina ciao perfetto cosa dici Cristina? posso darti del tu? sì sì e beh certo ok io sono rimasta molto colpita dalla tua analisi perché hai capito dietro ad ogni fase cosa cosa c'era e sono contenta anche che ti sia piaciuto non non pensavo arrivassero tutte anche le emozioni tutto quanto e niente sono sono molto colpita e ti ringrazio molto davvero io ho voluto semplicemente concentrare in poche righe senza annoiare quello che riguardava me stessa e le parti più importanti della mia vita quindi davvero grazie direi che c'è riuscita no? cosa dite con cittadini di Gotham Corrado visto che sabato non puoi esserci fa vedere che hai studiato qualcosa di qualche cosa in realtà non si è studiato niente si assorbe come spugna anche in perfetto silenzio io non avrei null'altro da aggiungere se Cristina ha trasmesso le emozioni ci è riuscita così bene e poi tu naturalmente hai analizzato in profondità ogni singolo aspetto credo che non ci sia null'altro da aggiungere si ascolta proprio anche per capire come provare ad applicare anche questi inconsapevoli involontari insegnamenti che arrivano perché arrivano dal confronto io fermo qui non c'è altro da aggiungere direi perfetto molto bene Corrado mi sei meritato la sufficienza va? ok no bene bene sono contento ci sono altre osservazioni cose da dire domande dubbi problemi incertezza abbiamo 4 minuti poi dobbiamo chiudere sul serio ma io dico giusto due cose beh innanzitutto mi dispiace essere entrato a metà dell'incontro perché avevo un altro impegno però sono riuscito a cogliere abbastanza il supo di questa cosa e mi piace molto l'idea che questo momento di incontro di più settimane possa anche prescindere un po' quello che è partire da quelle che sono le cose che scriviamo noi quindi questo mi sembra importante quindi spero e spero che Alberto continuerà a intrigarci in questa modalità per cui provocandoci direi che le provocazioni sono importanti per cui benvengano e credo che sia una delle parole chiave in questo momento di confronto è provocazione gotham puntina a provocarci dai sì a provocare e anche avete capito che non esiste una struttura preconfezionata noi lavoriamo su quello che voi fate noi lavoriamo sulla vita di gotham ed è la vita di gotham che ci offrirà gli spunti per per andare avanti per esempio qui ci sarebbero tante cose da dire ve ne dico una poi così al volo c'è un documentario del National Geographic che è un documentario completamente sbagliato da un punto di vista della divulgazione voi dite National Geographic sì vabbè possono sbagliare anche i grandi non è questo il punto no e perché è sbagliato perché non fa quello che fa Cristina e quello che fa Nicola lo fanno ma lo fanno in un modo sbagliato a me piacerebbe poi fare un mini webinar per mostrarvelo abbiamo un grosso problema perché non si può fare lo streaming di questo documentario quindi bisogna che riprenderlo riprendere dei pezzi e poi farveli vedere come quindi ci va del lavoro non lo potremmo fare subito se no sarebbe stato l'ideale nel giro di qualche giorno mostrarvelo perché si aggancia proprio a quello che dicono Cristina e Nicola però lì voi potete capire e potete anche capire come il livello culturale della divulgazione della narrazione eccetera si sia drasticamente abbassato e oggi abbiamo a che fare con degli elementi proprio di una povertà di una di una di una stereoticipità stereoticipità veramente veramente incredibile incredibile ma perché questo? anche perché è il frutto di insegnamenti di insegnamenti meccanici e cattedratici che ti dicono si fa così 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 ma non è vero si può anche fare così 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 ma c'è tutto un altro modo insomma di questo poi naturalmente parleremo dicevo Nicola non è potuto non è potuto venire ma perché lavorava ma avremo poi occasione di parlare anche con lui anche nei forum e di andare avanti vi annuncio che sabato mattina ci sarà un altro mini webinar speciale per chi non è su un tema molto professionale sì con una professionista su un tema curioso un minuto per dire qualcosa poi chiudiamo se c'è se no chiudiamo basta tutti ammutoliti siete allora Cristina senti tu devi continuare a viaggiare verso il pulizzer e non verso le pulizie di qualche miliardario californiano sono due cose diverse non so se ti è chiaro ok speriamo di migliorare certo grazie mille no più che migliorare devi capire quello che hai fatto se tu capisci quello che hai fatto tu ti dai delle regole ti dai delle regole di narrazione diciamola così ok penso che leggere in questo mi aiuti molto comunque sì e a proposito del racconto di Nicola posso dire un'ultima cosa Stephen King scriveva questo diceva questo sei un idraulico ti piace la fantascienza vuoi scrivere un racconto di fantascienza di un'astronave che ne combina di tutti i colori intergalattici perfetto metti un idraulico sull'astronave che cosa ha fatto Nicola ha messo l'idraulico sull'astronave cioè ti ha parlato di strumenti di cose eccetera che sono quelle poi della sua camminata Cristina ha parlato di Sherlock Holmes eccetera cioè ha messo hanno messo qualche cosa che ha a che fare con la tecnica della loro professione dentro una cosa immaginaria in questo caso non era così immaginaria perché perché era molto legata alla loro esperienza no però questo è importante è importante per la verità del racconto la verità del racconto non è data dalle immagini vere questo vale anche anche per un documentario anche un documentario del National Geographic tu puoi come vi farò vedere con questo documentario tu puoi avere delle immagini straordinarie bellissime incredibili che hanno richiesto mesi mesi di lavoro ma dietro non c'è niente zero è come guardare una bella foto e dire sì ti rimani colpito no bello ma dopo di che dopo che tu ammiri è solo un godimento puramente estetico mettili idraulico e vedi cosa salta fuori va bene signori e signore cari concittadini di Gotham per oggi è tutto alla prossima bye bye ciao 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 grazie ciao a tutti ciao grazie ciao